Ciao creatura, io sono Ekati Splendenti e benvenuta o bentornata nel regno di Kodai, A-S-M-A. Sto mangiando crackers, così anche un po' di crunchy sound e andiamo avanti con la nostra avventura che spero di terminare oggi o domani perché ci aveva lasciato lì in attesa di un caricamento che non è mai avvenuto e quindi adesso sono anche io curiosissimo di vedere come andrà. Wow, com'è crunchy. Allora, noi siamo Alicia, ricordi? Corri alle fontane, la figura sparisce nell'ombra. Ehi, torna qui, torna qui, lascia perdere, non vogliamo attirare l'attenzione. Ok, scopriamo cosa stavano facendo. Citi, magari giri, giri in tondo alla fontana cercando indissi. Ho trovato qualcosa. Ethan solleva un kit di scrittura gocciolante. Cosa significa? È la stessa carta usata per minacciare Antonio. Quindi, chiunque sia appena scappato, potrebbe essere E o un complice. Almeno ora sappiamo che è stato qualcuno nel castello. Questa è la migliore pista che abbiamo. Torniamo dentro. Credo che sia abbastanza spionaggio per una notte. Torni dentro per stare al fianco della tua migliore amica. Era praticamente finito il capitolo. Ok, andiamo al capitolo 11. Poi abbiamo il 12, il 13, il 14, il 15, quindi... Allora facciamo 11, 12... Facciamoli tutti. Ci facciamo tutti oggi, eh. E poi scrivimi nei commenti quale vorresti iniziare di Visual Novel insieme a me. D'accordo? Capitolo 11. Posizione di recupero. Dopo una notte difficile, prendi tempo per elaborare i tuoi sospetti dopo quello che è successo. Sai che nulla è come sembra. Il pomeriggio seguente. Apri gli occhi molto lentamente. Sei sveglia? Grazie a Dio stai bene. Ha dormito tantissimo? Cara ragazza, ci hai spaventato tutti. Che cosa ho? Che giorno è? Oggi è l'ultima cena. Ok. Prima del ballo di corte. Pensi di farcela? Ma chi ci ammazza noi? Vai verso, si sti racchiando le gambe mentre ti alzi. Non lo so. Non ricordo quasi nulla. Ti hanno dato dei sedativi molto pesanti. Sei fortunata di essere ancora viva. Sì, droga. So che i miei commenti ti fanno ridere, quindi li faccio. Anche se sono stupidi. Hanno scoperto chi è stato? Ah. Perché dentro di sé si chiedesse. Ma perché non hai mangiato prima del video? Perché è proprio stare tra amici. Giochiamo, mangiamo insieme. Questo è il mood. No. Sappiamo che la spada ti ha avvelenata. Come aveva detto Ecate. Aveva previsto tutto Ecate. Ma nessuno sta apprendendo la cosa seriamente. Ma ho fatto qualcosa. Andrò alla cena. Ho bisogno di scoprire di più. E ho anche fame. Chi crede sia stato? Rosetta, insicura. Beh, Rosetta lo ha fatto. E era consapevole, secondo me. Quindi dico Rosetta. Deve essere stata Rosetta. È l'unica che ha un motivo valido. Ma il suo nome non inizia con la E. Magari ha un secondo nome. Forse era un modo per depistarsi. Appunto, poiché che si firma nei cosi di Milano. O forse significa enemy, nemico. Wow. È possibile. È una persona malvagia. Devo essere forte. Devo fare finta che sia tutto a posto. Devi stare attenta. Non allungare di più il collo. Sono già stata avvelenata una volta. Esatto. E ti ho quasi vista morire. Non voglio che succeda di nuovo. Perché io ti amo. Ne ho abbastanza di nascondermi nell'ombra. Questo è il mio momento. Sono preoccupata per te. Scusami, Alicia. Non volevo spaventarti. Lo so che non volevi. Promettimi solo che farai attenzione. Va bene. Lo prometto. Bene. Devi stare. Devi fare una cosa. Che cosa? Mentre stavi male. Ho capito quanto sei importante per me. L'ho detto io. La scippa è partita già da un pezzo. Sei la mia migliore amica. Sei la mia migliore amica. E non posso vivere senza di te. Oddio. Chiarazione d'amore. Lo so. Lo stesso vale per me. Abbracci a lungo, Alicia. Quando si allontana, sta piangendo, ma con un sorriso. Immagino tu abbia bisogno di un abito da urlo per la serata. Allora. Esatto. Cosa mi consigli? Vediamo cosa ne pensi di questo. Cosa indosserai per la cena prima del ballo? Allora. Questo traccetto ormai. Poi qui diventiamo castane. Non mi piace tanto questo rosa antico. Rosa cipria. Non lo so. Un po' troppo da vecchia. Poi con una spallina. Fa tanto anni, 90. Una spallina, sì o una no. Mamma mia. Questa parna, la bomboniera. Mi fa schifo quella rosa lì. Quella spessi di cosa lì davanti. Allora. Mi fanno schifo entrambi. E diventiamo castane entrambi. Questo sembra molto velluto. Questo forse è un po' più... Sì, dai. Questo fa meno schifo dell'altro. Anche se... Vabbè. A questo punto era meglio o con tutte spalline o self. Guardiamo un video. Sembri abbastanza feroce in quel vestito. Arr. Arrmiavo. Lo spero. Non voglio sembrare debole. Beh, se è risorta da un avvenenamento. Non credo che tolgo sempre, comunque. Nessuno dubiterà con quell'abito. Pronta per la serata. Non mi sono mai sentita così pronta. Non lascerò vincere e sono pronta a mostrarlo al mondo. Fallo, ragazza. Arrivai ritardo alla cena e tutti sono già presenti. Lady Antonia. Ho sentito che hai passato un calvario. Sono sorpresa che tu possa unirti a noi. Non mancherei per nulla al mondo. Scruti gli ospiti. Izan e il principe Jonathan sono presenti. Ma Rosetta non c'è. Buonasera, Lady Antonio. Sei mia vavigliosa. Grazie. È bello riaverti con noi. Sei guarita piuttosto in fretta. Non permetterei mai ad un po' di veleno di bloccarmi. I'm a bitch. I'm a boss. Ricominciamo. Il principe Jonathan. Jonathan, vabbè, e Izan ridono mentre la regina si morde le labbra. Non c'è da ridere. Le mie scuse, vostra altezza. Mi piace ironizzare su situazioni difficili. Sì, beh, tieni le tue battute per te. Sembra quello di cortesia a cortesia. Marjorie. Fa silenzio, Jonathan. Ton, riesci a percepire la tensione e resti in silenzio. Ti senti pronta per il ballo, Lady Antonia? Improvvisamente la regina si alza la sua faccia come un fulmine. Sono stanca. Vi lascio. La regina lascia tutti in un silenzio di stupore, sbattendo la porta dietro di lei. Cosa è successo? Punto eppo, insomma. Si comprensiva, si scettica. Si scettica. Ma non davanti a tutti, però. Facciamo un suo gioco così comprensivo. Lo stress del ballo deve averla reso nervosa. Sicuramente hai ragione. Odia i poveri pavativi delle feste. Sei sicuro? Lo spevo. Le pavle va più tappedi. Sì, credo dovresti farlo. Capiremo cosa sta succedendo. E non credere. Che mi si è dimenticato di te, mi lady. Stiamo ancora cercando di capire come sei stata avvelenata. Grazie. Sono fortunata ad avere amici così premurosi. Ti rilassi per goderti la cena con i tuoi due amici. Mentre torni nelle tue stanze, trovi un viso familiare ad aspettarti nel corridoio. Oh no, la stronza. Lei di Antonia, vedo che sei guarita completamente. Non grazie a te. Scusami. So che è stata la tua spada ad avvelenarmi. Cosa? Mi hai sentita? So cosa hai fatto. Senti, so che io e te non andiamo d'accordo. Ma non lo farei mai. Eppure, lo hai fatto. Hai ottenuto ciò che volevi, vero? No, perché siamo ancora vive. Schiocco di vita. Di cosa parli? Eri libero e assicurati che morissi e prenderti il principe. Mai. Senti, hai vinto il combattimento. Credi davvero che avrei perso deliberatamente per nessun motivo? Dimelo tu. La spada era un regalo. La lama deve essere stata impregnata di veleno prima che mi arrivasse. Siccome lei ha detto delle cose tipo per una giusta causa, perdo per una giusta causa, così, quindi sembrava che lei sapesse. Eh, non me la fa, quindi non crediamo. Non ti credo. Credi quello che vuoi. Non so nemmeno dove trovare veleno. Secondo me, non l'ha avvelenata lei, però l'ha, intanto è stata la regina regalagera, avvelenata. Perché aveva premura che arrivasse prima dell'incontro e tutto. E lei era complice, Rosetta, secondo me. Ah, sì? Sì, se ti avessi voluto uccidere, l'avrei fatto con onore, non con questi trucchetti. Stai dicendo sul serio? Sono onesta, non ci crede nessuno, bugiardona. Abuzzicona, bugiardona. Senti, la nostra relazione non è facile. Stai per sposare l'uomo che amo. Non ne sarei tanto sicuro. Io lo so. Potrei essere la scelta della regina, ma il suo cuore appartiene a te. Lo conosco meglio di chiunque altro. Sceglierà te. Mi dispiace, Rosetta. Devi capire perché ti odio. Non intendevo rovinarti la vita. E' proprio questo il punto. Non l'hai mai fatto. Non mi amerebbe comunque. Ma... I'm confused. No, non c'è altro da dire. Il suo cuore è sempre stato chiuso per me. Mi dispiace. Non è vero. I'm sorry, but I'm not sorry. Smettila di combattirmi. Senti, non ti voglio morta. Non ora, non mai. Non sono così crudele. Se sono una sciocquetta, questo lo so, ma non farei mai parte del mio regno. E non ti odio nemmeno. Non proprio. Ma se l'ha appena detto. Tio, ma questa qua è bipolare. Per essere chiari, non ti ho mai odiato nemmeno io. Ti disprezzo soltanto. Probabilmente sì. Lo farei se fossi te. Voglio solo che questo odio fra di noi finisca in questo momento. E decide lei. Ma... Va bene. Tregua. A me. A me va bene. Stringi con fermesa la mano di Rosetta solo perché non è riuscita ad ucciderci. Allora adesso ci teme. Ma chi la fa lo spetti? Calma. Calma e specie. Mi dispiace per tutto quello che ti è successo. Se scopri qualcosa te lo farò sapere. Ma... Ma papà... Bugiarduna. Grazie, sei molto gentile. Certo. Sarebbe il momento di fare qualcosa di buono. Buonanotte. Lady Antonia. Rosetta si alontana e resti da sola. Non posso credere che sia successo. Lady Antonia. Lady Antonia. Rosetta torna per un momento. Volevo solo farti le mie... Congratulazioni. Per cosa? Per il tuo futuro fidanzamento e per essere la donna migliore. Questa volta Rosetta va via per davvero e torna nelle sue stanze confusa. Sì. Ok. Allora. Capitolo 12. La notte prima. È ora del ballo. Beh, quasi. Il principe Jonathan e Ethan hanno prima altre idee. Ma cos'è questa cosa ambigua? Ma tu cosa vuoi fare? Eh, 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 eh. Colossetta cosa vuoi fare? Colossetta. Sei straiata nel letto? Sveglia? Non riesci a dormire? Il ballo è fra meno di 24 ore. Non posso crederci. Abbiamo ancora il pigiama di mio padre. Ehi. Sei sveglia? Dormirò quando sarò morta? Addirittura. Vuoi fare qualcosa? Di che tipo? Una svolpigiatina. Andiamo. Scusami. Questa è stata troppo esplicita. Andiamo a vedere i preparativi del ballo. Vediamoci lì fra dieci minuti. Eh, sono troppo trefi in queste puntate. Mi diverto. Arrivi per prima al balcone. Wow. Si vede tutto da quassù. Guardando giù, vedi i servitori del castello che lavorano ai preparativi. Figo, vero? Alicia si avvicina a te. Domani sarai laggiù a ballare. Mi chiedo con chi ballerò per primo. Il principe no. Non ti ha chiesto un ballo? Sì. E non vuoi accettare? Non lo so. Perché no? Mi piace Ethan. Ho paura. Ah, siccome non mi piace Ethan, dovrò scegliere. Ho paura, ma non ho paura. Però vabbè. Ho paura delle conseguenze. Cosa vuol dire? Qualcuno là fuori non vuole che stia col principe. Lo capisco. Non vuoi dargli altre ragioni per odiarti. Esatto. Beh, comunque sia, ti divertirai. Lo spero. Voglio solo godermi la serata. Potrebbe essere la mia ultima notte qua, qui. Ti giro qua. Cosa farai se dovessi andartene? Credo che tornerò a casa. Mi prenderò cura di mia madre. Tornerò al mio vecchio lavoro. Anche con tutti i cambiamenti. Cos'altro posso fare? Tutto ciò che vuoi, il mondo, è nelle tue mani. Ma come ci ama. Non devi più sprecare la tua vita in un bar. Me lo prometti? Prometti di fare qualcosa di più entusiasmante. Ok? Te lo prometto. Comunque, non sai ancora come andrà domani. Non sono nemmeno sicura di come vorrei che andasse. Ma resta corte, non vedi che puoi ammazzare la gente e nessuno ti fa nulla? Non pensarci troppo. E ascolta qualsiasi cosa accada. Sono orgogliosa dei tuoi progressi. Io ti amo. Accetta, rifiuto. Accettiamo. Lo sono anche io. Questo è lo spirito giusto. Ho imparato molto dall'essere qui. Non lo dimenticherò mai. Certo che no. È stato un percorso spericolato. Ti ho studiata queste ultime settimane. So che sei più forte di come non lo sei mai stata. Sì, sei una persona nuova. È una cosa positiva. Di certo non è negativa. Solo diversa. Dovremmo andarcene prima di essere scoperti. Dai, dormi un po'. Domani ti aspetta una giornata molto impegnativa. Sei appena tornata alla tua stanza e qualcuno bussa la porta. Entra Ethan e il principe Jonathan entrano nella stanza insieme, sorridendo ma sempre appiccicati coi due. Che ci fai qui? Sembra che entrambi abbiamo la stessa idea. Beh, è l'ultima notte prima del ballo, quindi mi chiedevo se volessi fare qualcosa. Anche io. Ecco, è tutto così adulatorio. Volevo fare una città nei palazzi e io stavo pensando di fare una piccola città in barca. Allora, con chi vuoi venire? Ma chi se ne frega di i palazzi andiamo a fare un città in barca? Che vuoi fare? L'isame lascia perdere entrambi gli appuntamenti. Io voglio andare in barca. Nei palazzi posso andarci anche da sola. Andrò con il principe Jonathan. Jonathan ha chiamato. Sono felice che tu mi accompagni, mi ledi. Non divertirti troppo senza di me. Ma qualche proposta è andare un giro in giro per i palazzi. Cosa? Cioè, ma che cazzo? Cioè, ma veramente, vi tosto andavo a dormire. Il principe sorride e afferra il tuo braccio facendo strada. Guarda che bella barca, una gondolina. Tu e il principe navigate sul lago di Shalousin, con due i, al chiaro di luna. Non riesco a credere di non averti mai portato fuori in barca. Vabbè, ma... Sono confusa. Non dovrebbe essere una mia frase questa. Vabbè. Non molte persone vengono qui fuori. Si dice che queste acque siano infestate. Infestate? Davvero? Da pirati? Da privati? Dammi pure della stupida. Ma i pirati non viaggiano per mare. Covetto? E allora? Perché ci dovrebbero essere pirati in un lago, effettivamente? È una stovia bellissima. Vuoi sentirla? Punti domanda uguale. Assolutamente. Molto prima che il regno venisse fondato questa Eva, una landa desolata, non viveva nessuno qui. No. I piovati ci avvivavano, per sbaglio. Stavano c'è pagando un posto dove nascondeva il lovo tesovo. Evano impegnati in una lunga battaglia in mafe. Non volevano che il lovo bottino finisse nelle mani di qualcun altro. Capisco? Avvivavano. Avviva. E trovavano il lago. Pensavano fosse perfetto. Perché l'acqua Eva poco profonda. Avrebbero potuto recuperare facilmente il tesoro nel momento giusto. Esattamente, dunque, dove i piovati si diverso e ho perso il lago con i fogsiavi. Immagino non sia andato tanto bene per loro. Immagini bene, il tesoro è fatalmente pesante che la nave si è ovesciata. Ma i pirati sanno nuotare. Non quando sono appesantiti dai fogsiavi. O no. O sì, i piovati sono annegati. Nessuno seppe dove fossero e con l'uovo il tesoro. E poi, cos'è successo? I miei antenati hanno dovuovato questa terra. Scappavano da paesi in guerra per dovuovare l'ovolanta pacifica. Quindi la tua famiglia non è sempre stata nobile? No. Sono stati scelti dal popolo per governare. Hanno costruito il castello in cui viviamo oggi. Ma allora, cosa c'entrano i pirati? Abbiamo duovato i vovzi a vicendinaia di anni dopo la nuova umovte. E vanno pieni di oggetto. Quindi, scelgo silver. Perché è un pev che abbiamo duovato l'avocento nelle acque basse. Creativo, bevo. Questo è un male, mi piace. Allora, mi state antipatici, ma ti continuo che mi piace. Mi piace, davvero. Ha una storia interessante alle spalle, bevo. Forte adoro le storie sui pirati. Ma questo è vero. Siamo in due. Raggiungete il centro del lago galleggiando in tondo senza meta. Non so come sentirmi adesso, che so che il lago è infestato da pirati. Avvicinati. Mi vendevo a cua di te. Non ti ho mai sentito parlare così diretto. Sento di poter parlare brevemente qua fuomi. Sei nervosa per domani. Beh, penso di sapere chi hai in mente di scegliere. Lo credo anch'io. Tu vuoi che scelga te? Certo, ovviamente. Che domande salga? Ti avvicini per baciare il principe. Non vedo l'ora di diventare la tua regina. Non vedo l'ova di essere tua, ma vita. Non vedo l'ora di ucciderti e fare il mio regno. Il mio regno. Tu sai cosa che tu... Ti siedi guardando la luna. Tutto sa va diverso domani a quest'ova. Ah, e facciamo pure anche la regina. Hai paura? Non ho paura. Non esattamente. È solo che non so come gestiva questo tipo di cambiamento. Ci sarò per te. Quasi, Lady Antonia. Sono innovato dal tuo supporto. Vi sedete per un po' al chiaro di luna? Aspettando l'alba. Aspettando l'alba di un nuovo giorno. Ti svegli la mattina del ballo di corte? Ci siamo. Questo è il grande giorno. Mandi un messaggio a tua mamma per farglielo sapere. Ehi, mamma. Non ero sicura che... Se ti ricordavi. Ma oggi è il giorno del ballo di corte. Certo che mi ricordo. Ci sarò. Ci sarai. Certo. Ho tutto il diritto di essere lì. Ma tu e la regina non avete i vostri problemi? Sì, senza dubbio. Ma non sarà la regina ancora a lungo. Ho sbaglio. Hai ragione. Non vedo l'ora di vederti. Non vedo l'ora di vedere la mia piccolina Splendere. Siamo Splendere. Splendere siamo noi. Mamma. Non mettermi in imbarazzo. A cos'altro servono le mamme? Lol. Ti voglio bene, querizzino. Rattrizi le spalle facendo un respiro profondo. Così. Questo è il mio giorno. Ti prepari mentalmente per la giornata che ti aspetta. Guarda, solo tre episodi. Li facciamo tutti adesso. E domani ti metto un video extra che non c'entra niente con... Va bene? Perché se no domenica resta vuota e mi piaceva avere il weekend con i video. Poi sabato prossimo sia in tempo... Fa in tempo a commentare e decidiamo quale nuovo avviso al 9. Inizia il sabato prossimo. Ok? Inizia il ballo. Proprio al momento del ballo. Rosetta ti dà delle notizie interessanti. E credi? O sta mentendo come sempre? Quella bugiardona. Qui c'è un colpo di scena. Poi... Ok. Dopo c'è l'ultimo greco. È quasi il momento del ballo di corte e ti senti estremamente confusa. Cosa succede? Non ho idea di cosa indossare. Seriamente? Inizia fra dieci minuti. Lo so. Lo so. Ok. Meno male che ho la migliore fra le migliori amiche. Hai scelto qualcosa per me? Che hai forse? Vabbè. Ho alcune opzioni dalla boutique. Mi stai salvando la vita? Vicino a chi fa casino. Che abito scegli? Allora questo da padracona. Oppure questo? Questo dai. Questo è già da regina secondo me. Guardiamo. Pubblicità. Fatto. Wow. Non so cosa dire. È umane. No. Fidati di me. Sei favolosa. Hai un aspetto incredibile. Va bene. Ora posso scendere. È bello. Verrà bello quel vestito. E Alicia. Grazie di tutto. Quando vuoi. Ora sbrigati. O farai tardi. Tanto ci sposeremo io e lei. Tutti si girano a guardarti mentre cammini giù per le scale della sala d'ingresso. Hai paura, eh? Tutti ti stanno ammirando. No, è lei. Tutti ti stanno ammirando. Rosetta, dice avvicina. Non sembra compiaciuta. Sai, la tua modestia sarà la tua rovina. Mi ci vuole un po' per processare tutto questo. Bene. Processalo più velocemente. Sarai vicino da oggi. È bello vedere il ritorno della vecchia Rosetta scorputica. Non parlare troppo presto. Ho brutte notizie. Andiamo dove non ci possono sentire. Segui Rosetta nella sala da ballo. Tu Rosetta, trovate un posto tranquillo dove stare sole. Cosa succede? Devo avvertirti. Non arrabbiarti con me. Dimmela, basta. Ti prego. Ok, la notte del tuo risveglio ho ricevuto un messaggio da qualcuno che si firma e... La lettera mi ha offerto un patto. Diceva che sarei riuscita a salire al trono se lo avessi aiutato. E lo hai fatto? Cosa? No, certo che no. Perché ti sarei... Perché ti starei dicendo del messaggio se non fossi dalla tua parte? Senti, non sono qui per il trono. Al contrario di quanto pensi. Oh, sei qui per... Jonathan? Sì, ma dato che non posso averlo, preferisco abbia ciò che vuole lui. Te. Mi dispiace. Mi sarei dovuto fidare di te, ma anche no. Non importa. Pensaci. Questo è... Ha fatto grandi promesse. Lui o lei devono far parte di qualcosa di potente. Lo so, ho ricevuto un messaggio anch'io. Wow. Jonathan? Jonathan lo sa? No? Ha già abbastanza a cui pensare. Ma è una cospirazione. Inspirazione? Rosetta? Non posso dirlo. E se è colpista ancora? Forse tu non puoi. Ma io sì. Rosetta, no. Lady? Gira la testa e vedi Jonathan. Ethan dietro di te. Buona sepa. Di cosa state parlando? Allora, Antonia, hai qualcosa da dire? Cosa vuoi fare? Allora, vorrei dirlo a Jonathan, ma allo stesso tempo non vorrei dirlo adesso solo perché sono obbligata da Rosetta, capito? Però ormai ci siamo, quindi lo diciamo. Ho ricevuto delle minacce. Cosa? No, certo che no. Perché ti stavi... Perché ti stavi dicendo del messaggio se non fossi dalla tua parte? Eh? No, ho capito. Qualcuno sta mandando messaggi anonimi in modo da disfarsi di lei. Tutto questo è oltuaggioso. Tuttuaggioso. Perché non me lo hai detto prima, Lady Antonia? Non volevo che qualcuno si facesse male. Avrei potuto proteggerti? Aveva me? Sapevi di tutto questo e non hai pensato di vendermi partecipare? Non pensavo che la situazione sarebbe precipitata in questo modo. Basta litigare, vi prego. Il problema ora è che anche Rosetta sta ricevendo messaggi dalla stessa persona che si firmò con una I. e non abbiamo ancora capito chi possa essere questa I. Oh no, vedo di sapere chi possa essere questa I. Tutto ha senso. Lady Antonia non l'è mai piaciuta, ma non pensavo si spingesse tanto. Sbutterrosbo chi è stato? Mia mamma dove l'aveva detto una ragazza che ha commentato un mio video. E io ho scritto magari si chiama Eugenia e non lo sappiamo. Perché è vero, il nome della regina non è mai stato detto. Intendi la regina? Mamma mia. No, questo no. Cazzo, si blocca di nuovo, è più bello. Ecco, era finito il capitolo. Capitolo 14, cioè ho scritto colpo di scena. La rivelazione. Il principe Jonathan è arrabbiato e ne ha tutti i motivi. Come ti comporti in questo disastro? Ma alla fine è un disastro. Accediamo. Hai sudato freddo quando sei bloccato e hai pensato, oddio, adesso non lo finirei più. Invece non finisco lo stesso perché sono di parola. Il principe trema dopo aver realizzato che sua madre potrebbe essere la colpevole. Come può esserne sicuro? Deve esserci un errore, ma ancora dubita. Nessuno è a voi. Mia mamma dove è E. Evelyn, regina Evelyn, il suo nome. Un momento, un momento, un momento, un momento. Potresti stare salitando a conclusioni. Hai il messaggio? Io, Jonathan, calmati. Dobbiamo prima esserne certi. Dammi il messaggio, mi ledi. Posso provartelo. Provavartelo. Hai il messaggio a Jonathan? La sua faccia diventa rossa dalla rabbia guardandola. Sentendo la commozione, si presenta la regina. Perché alzi la voce, Jonathan? Questo è un evento pubblico. So cosa hai fatto. Hai minacciato lei di Antonia. Sappiamo che sei E. Jonathan, per favore. Non hai mai voluto che sposassi Antonia. Ecco perché hai già avvocato di spavassarti di lei. Tutto questo è ridicolo. Davvero? Allora, spiega questo. Il principe Jonathan solleva il messaggio di E in modo che tutti possano vederlo. Questa è la tua calicovafia. Non essere ridicolo. Non lo sono. Ti conosco da tutta la vita. Grazie, Rufi. Conosco la calicovafia di mia madre. Jonathan blocca la strada alla regina. Mentre cerca di scappare. Sposta di Jonathan. Non anduai da nessuna pavote. Non puoi tenermi qui. Posso se hai commesso un crimine. Smettila una buona volta, Jonathan. Sono ancora la tua regina. Non dopo stanotte. Sto per essere in covonato, vè. Questo è proprio ciò che temevo. Dovresti essere dalla mia parte. La tua pavote? Sì, dalla parte del regno. L'ho minacciata per il bene del regno. Eh, eh, eh. L'hai ammesso? Non posso credere al tuo tradimento. Il mio tradimento. Sto cercando di salvare il regno. Non ha fatto nulla di male. Si è immischiata nei miei affari. Pensavo che una volta aver ceduto al veleno avresti capito che era una debole. Quindi se è stata tua ceduta al veleno cosa chiesimo ancora via? Sì, sorpreso, arrabbiati. Arrabbiati, ovviamente. Il casino fuori. Arrabbiati. Perché non sono sorpreso? Perché forse sei una donna? Tipo. Scusa, sei stata fastidiosa fin dall'inizio. Credo che nel profondo sapessi che qualcosa non andava. Puoi anche aver capito chi sono. Ma sono quasi riuscita nel mio intento. Perché lo hai fatto, Madwee? Come ancora lo chiede perché? Ciao, Jonathan. Ciao, buonanotte. Mi sono già sbarazzata di un figlio inutile. Potrei farlo una seconda volta. Dovevo assicurarmi che Jonathan avesse una moglie forte. Sono più forte di quanto pensi. Sono venuta per niente. In che senso? Sono sopravvissuta alla spada avvelenata. Hai vinto perché hai avuto fortuna. Ancora non capisco questo cuore. Ciao, Jonathan. Va bene. Lascia che te lo spieghi per bene. Volevo che Rosetta diventasse tua moglie. Viene da una famiglia di rinomata. Da una forte alleanza. E per quanto vi guarda l'amore? L'amore non ha nulla. A che fare col trono? Sarebbe stata una regina ferrea. Ciò di cui il regno ha bisogno. Una stronza, insomma. Scegli lei e facciamola finita. Non sa vai qui a vedere chi sceglievo. Guardi e portatela via. La regina viene portata via. Il pubblico si riunisce ad applaudire. Milady, va tutto bene? Non riesco a credere di aver causato tutto questo. Non è colpa tua. Lady Antonia. Il principe Jonathan. Urla il tuo nome. Mentre scappi dalla sala da ballo. Atterrita da ciò che hai fatto. Ma non abbiamo fatto niente noi. E' un po' di drama. Scappando dalla sala d'ingresso, vedi la regina che viene portata via. Te ne vai così presto? Fallo. Sai che non fai parte di questo mondo. La regina resiste alle guardie, folgorandoti. Non hai le capacità per prendere il mio posto. La regina viene portata via, lasciandoti da sola. Ha ragione. Non sono pronta per tutto questo. Ma no, Antonia, va tutto bene. Non posso farcela. Cosa ti ha detto la regina? Ha detto che non sono pronta. Credo abbia ragione. Nessuno è nato pronto. Sono sicura che sia una curva di apprendimento. What? Tu lo eri. E com'è andata? Non bene. No, non si tratta di me. Se lo vuoi, tu lo sarai. Una di noi. Ah no. Se lo vuoi, devi essere disposta a fare ciò che serve per averlo. Rosetta, perché stai facendo tutto questo? Voglio darti il mio supporto. Sono stanca di gelosia e tradimenti. Poi forse sono lesbo. Se continuo di questo passo, potrei trasformarmi in un'altra Evelyn. Non è ciò che voglio per me stessa. Quindi tregua. Estendi la mano a Rosetta. La ignora e ti tira verso di sé per abbracciarti. Eccola, vedi? Devo fare parte del nostro regno, ma non ci farà parte. Scommetto che non te l'aspettavi. Dobbiamo andare alla cerimonia di scelta ora. Sei pronta? Sì, lo sono. Grazie del supporto. Andiamo da questa parte. Due Rosetta entrate nella stanza camminando, una di fianco all'altra. Lady Antonio, stai bene? Sì, grazie. Pistosto, sei pronto? Principe Jonathan. Sì, Lady Rosetta. Bene, taglia la sua spazio e scegli la tua regina. Il principe sorride e il suo sguardo incontra il tuo. So dal primo giorno che voglio che sia la mia vettina. Sei gentile, considerevole e dolce. Tutto ciò che cerco in una vettina e in una moglie. Sei, se mi volvai, Lady Antonia, io ti sceglievo. Fermi, colpa di scena. Rivolgete tutti l'attenzione su Idanna, visibilmente afflitto. Devo dire qualcosa prima che tu risponda. Siamo diventati molto più vicini nelle ultime settimane. Ho ragione, no, perché ti ho sempre frienzonato. Certo. E per me è più di un'amicizia. Voglio stare per sempre con te. Ethan, solo pensare a te è abbastanza per farmi sorridere. E ora non riesco ad immaginare una vita senza di te. Se i tuoi sentimenti sono vovuti quando dici all'ova mi vovo indietro. Ma io non lo voglio. Solo se Lady Antonia scegliesse me. Sembra che tu sia ad un bivio. Antonia, come dici? Non sono un bivio, non ho mai scelto Ethan. Con chi vuoi stare? Ethan, Jonathan. Non ho mai scelto Ethan, anche se è il colore più bello nello sfondo. Jonathan. Jonathan, voglio stare con... Oh, ultimo capitolo, scelgo. Con tutti i tuoi problemi risolti è finalmente ora di vivere tutti felici e contenti qualcosa che davvero ti meriti. Ultimo punto, ottimo capitolo. Il principe ti si avvicina nervosamente. Tu lo pensi davvero? Certamente non ho fatto tutto a stasso il fa per vincere. Ma è proprio questo. Capirai se non volessi che... Ho detto che sono pronta. Ci sposevemo domani. Allora non vedo l'ora che arrivi il mattino. Il principe ti prende le mani. Non c'è nessun'altra persona che vorrei avere come mia vecina. Allora baciami. Il principe avvicina il viso e ti bacia molto, molto a lungo. Beh, direi che non ci sono dubbi. Ti liberi dalla presa del principe a Rossetto. Scusami. Rosetta. No, è tutto a posto. Sapevo che stava arrivando. Rosetta, anche tu avresti stata una perfetta vecina se non fossi stato un titolo al culo. È bello sentirte lo dire a vostra attesa. Ora con il tuo permesso vado a fa un culo. Rosetta va via in silenzio. Ti muro di le labbra. Credi che starà bene? Lo spevo è diventato molto più matuva. Credo che sia meglio andare. Posso parlare con Ethan per un momento? Certo, torno a fa qualche minuto. Il principe lascia te il santo sole. Ehi, non mi aspettavo che fossi così dura. Ma se ti ho frenzonato in tutti i capitoli. Mi dispiace di non provare lo stesso. Non preoccuparti. Non me lo sono mai aspettato. Grazie. Cioè, ho dato segnali chiari. E come la mia vita è reale. Sei stato un buon amico per me. E lo sarò sempre. Te lo prometto. No, perché se tu sei interessato non sarai mai un vero amico. Quindi, bugia. Perché farà, ti darà sempre i consigli con un suo torno a conto. Quindi non fidate. Credo che dopo il matrimonio mi prenderò un po' di tempo per me. Che farai? Viaggerò per un po'. Vedrò il mondo. Ma tornerai, vero? Sì, non posso stare lontano da Jonathan. E da te, per sempre. Bene. Spero che troverai quello che cerchi. Lo abbracci dolcemente. Grazie per non avermi tagliato fuori completamente. Non lo farei mai. Vinciterò tutti. Nemmeno io. Sei troppo importante per me. Spero che troviate la felicità insieme. Ci vediamo domani al matrimonio. Stringi la mano a Jonathan. Mi trino, oddio. È stato difficile. Non è vero. Lo so, ma tutto va bene, ova. Volevo solo dirti una cosa. Vi guardo tutto amare. So che sta combattendo contro il kangfo. Ova, che sono al comando dell'atteso veria. Il mio proimo del reto sarà quello di ingacciare i migliori dottorvi del regno per curarla. Jonathan, non sai cosa significa questo per me? Lo so io. Ecco perché lo sto facendo. Abbracci forte, Jonathan. Grazie mille. Qualsiasi cosa per la mia vagina. E adesso, permettimi di scordarti nelle tue stanze. Tu e Jonathan siete nella tua stanza. Finalmente soli. Paci il tuo principe. Tutto questo è surreale. La mia vita è iniziata quando ti ho incontruata. È stata una benedizione. Sei felice, scettico. Ancora? Sei felice. Sei così dolce. Punto virgola. Questo è il nostro momento. Voglio che sia perfetto. Lo è già. Lo baci dolcemente. Avvolgendo le braccia attorno a lui. Avvolgendo. Come funzionerà domani? Ci sposeremo al pomeriggio. Mia madre ha provato così tanto. A non farlo succedere. Mi dispiace per quello che è successo con tua madre prima. Non mi sono mai fidato di lei. Non è un'eccezione. Speravo solo che le cose sapevano andate in maniera famigliore. Adesso stiamo insieme. Questo è ciò che conta. Hai ragione. Sai, il doveve ha portato a questo matrimonio. Ma per vova non posso fare altro che essere felice. Anche io non ve lo sarei mai aspettata. Vi baciate in una stanza al buio. Godendovi la gioia di un momento da soli. Dovrei andare. Non resti. Non posso. Non dovrei vedere per la sposa prima del grande giorno. Non ti prendevo per una superstiziosa. Non lo sono. Ma non voglio metterti nei guai. Mi mancherai. Da domani potremmo svegliarci accanto. All'altro tutti i giovani. Mi piace l'idea. Ma tu, Alice è al posto tu. Ma mentre il principe va via, ti prepari per dormire. Domani sarà il grande giorno. Arriva il mattino e sai che è il momento di scegliere il vestito da sposa. Wow. Che vestito indosserai? Oh mio Dio è bellissimo. Iper porno. Questo invece. Allora anche questo è trasparente. Però troppo da brava ragazza. Prendiamo quello super porno. Bellissimo questo. Wow. Fatto. Semplice, credo. Semplice porno. Semplice esiste in un porno. Sentendoti pronta per il futuro che ti aspetta. Ti dirigi verso i giardini per la cerimonia. Wow. Lo facciamo qui nel labirinto. Aspetti voi dal castello con Alicia e tua mamma. Visto la cerimonia. Sono così felice che tu sia qui. Mamma. Non mi perderei mai il matrimonio di mia figlia. E nessun matrimonio è completo senza una dammicella d'onore. Certo che no. Tutte le persone a cui voglio bene sono qui ora. Credi di amare il principe? Forse sì. Mettiamo sì ma non è vero. So di amarlo. Oh che carina. Che carina. Credo di saperlo fin dall'inizio. So che sareste perfetti insieme. Non vedo l'ora che vi incontriate ufficialmente dopo il matrimonio. Dimentichi che ci siamo già incontrati. Incontrarlo quando era bambino non conta mamma. Beh. Sapeva che sarebbe accaduto. Vedi. Alicia sa che ho un buon intuito. Ehi. Stai per diventare madre della regina. Mi fa sembrare così vecchia. Ehi. Ehi. Jonathan è pronto per iniziare. Tu sei pronta? Prontissima. Saper finire. Grande finale. Tua mamma e Alicia ti accompagnano lungo il corridoio. Sei così bella. Grazie mamma. I tuoi due compagni ti lasciano all'altare con il principe Jonathan. Milady. Non sei mai stata così bella. Grazie. Non vedo l'ova di essere sposata. Lascia che reciti i miei voti per primo. Credo che quando lo sai, lo sai per certo. Non ti conosco da molto. Ma credo che senti tua mamma tirare su col naso nel pubblico. Mi sveglio ogni giorno pensando a te. Ova. Mi sveglio ogni giorno. E sarei la prima cosa che vedo. Oh. Jonathan. Jonathan. Questo noi. Bevova. E bevo sempre. Sembra una minaccia. Per ora. E per sempre. Tocca a te. Amove mio. Diventa poetica. Si diretta. Diventa poetica più bella. Sei la melodia. Tanto sto pensando ad Alicia finché lo dico. Sei la melodia del mio risveglio. Che dolce. Sei l'arcobaleno nei miei giorni. Piibui. Ma sembra una canzone di Eli. Sei il fuoco nella mia ora più gelida. Anzi Georgia. Splendido. Vi scambiate gli anelli sentendo un brivido d'amore correttissolendoti per la schiena. smr. Ora che le promesse sono finite. Immagino. Oh. Ora che le promesse sono finite. Immagino che dovremmo baciarci. Proprio quello che pensavo. Il principe ti porta vicino a sé e ti bacia con amore mentre il pubblico applaude. Ehi. Ehi guavo da un po'. Ci siamo sposati. Congratulazioni ragazzi. Le vostre promesse erano bellissime. Grazie. Ora tutto ciò che resta è l'incoronazione. Una cosa per volta Antonia. Devi prima goderti la giornata. Indovina. Isa e io abbiamo parlato. E andiamo a fare un viaggio. Andiamo via da qui. Congratulazioni. Voi due vi divertirete tantissimo. Sono così eccitata. Mi mandate una cartolina. Anche dieci. Abbracci la tua migliore amica. E si prepara per fare le valigie. Spero non pensiate sia molto strano viaggiare con Alicia. Credo sia fantastico. Ho la sensazione che voi due vi divertirete un mondo. Questo non lo so. Ma mi piace la sua compagnia. E a lei la mia. Spero vi divertiate. Io spero che tutti godi il tuo matrimonio. Ci vediamo dopo. Ethan segue Alicia. Finalmente soli. Non proprio c'è qualcuno che devi incontrare. Vedi tua mamma che si avvicina. La torta di matrimonio è magnifica. Mamma, non ne abbiamo ancora mangiato. Beh, non devi mai far aspettare i tuoi ospiti. Giusto. Non piaceva incontrarla di nuovo. Vedo che sei tanto affascinante come una volta. Ma era un bambino. Vabbè. Sono felice che la pensi così. Hai sempre veduto in me anche quando nessun altro lo ha fatto. Hai rubato il cuore di mia figlia. Ladro. E sono felice della sua scelta. Grazie. potrei avere un momento con mia figlia. c'è avutamente. Il principe si è lontana per lasciarti un momento con tua mamma. Cara, non riesco a credere a tutto questo. nemmeno io. Sono così orgogliosa di quanto strada hai fatto. Sei felice? Sei felice. Tu sei felice. Felicissima. Jonathan è un ragazzo d'oro. Ho tutto ciò che mi serve ed oltre. Ho sempre saputo che era la scelta giusta per te. Sono così felice che le cose siano andate come ti aspettavi. In realtà non ci aspettavamo niente, però da fuori quando abbiamo fatto un piano è andato solo tutto liscio, anche io. Godiamoci la notte di festeggiamenti tutti insieme, io voglio piaccarmi. Ti riunisci alla festa a braccetto con tua mamma. Ti scegli il giorno, ti svegli il giorno dopo del tuo matrimonio, credo, perché ti scegli. È il giorno dell'incoronazione, vedevo l'ora, guarda. Io me lo chiedo a me stesso, sei nervosa? Non con te al mio fianco. Questa è l'ultima volta che lasci la stanza con il principe. Jonathan ti prende le guance e ti guarda profondamente negli occhi. Ma quando dove ne va, savo vè e tu la mia vecina. Mano nella mano, lasciate la camera da letto. Pronti, pronti a condividere il peso della corona addirittura. Beh. È finito così. Ma io pensavo ci incoronassero. È finito così. Lo faccio prossimo. No, è finito così. Ma dai, io volevo diventare regina. Volevo vederli in coronazione. Niente, è finito così. Che delusione, comunque. Vabbè, alla fine ce l'abbiamo fatta. E la storia, poi sai già cosa succede. Il principe muore, muore Ethan. Insomma, quelle storie lì. Vabbè. Spero che questo video ti abbia fatto rilassare, ti sia piaciuto e mi raccomando. Buonanotte, creatura. Fai la prova. Ciao, creatura.